Cari amici di Fano TV, buonasera e bentrovati. Questo è il primo di due approfondimenti dedicati al Centro Studi Vitruviani e all'Opera di Vitruvio. Dieci anni di attività e naturalmente il Comune di Fano ha espresso l'intenzione di coinvolgere il Centro in varie attività e in varie situazioni. Quindi do subito il benvenuto al Sindaco di Fano, Massimo Seri, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Sono dieci anni che esiste il Centro Studi Vitruviani, sono dieci anni di attività. Mi sento di dire che il Comune e l'amministrazione sia parte integrante del Centro Studi. È un'istituzione importante per la nostra città perché quando si fa ricerca, si fanno attività scientifiche, significa far crescere un territorio, non soltanto una sola città. Sotto questo aspetto, per quello che mi riguarda, in questi anni siamo stati molto sensibili e abbiamo investito molto. Non è a caso che è cresciuto e nato anche un nuovo centro di ricerca internazionale per il mare con il Marine Fan Center. Però tornando al Centro Studi, che vorrei ricordare, è un'istituzione che vede come protagonisti l'amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio, che ha creduto insieme a noi dal primo momento, l'Università degli Studi di Urbino, la Politecnica di Ancona, la Sovrintendenza. Avere, come dicevo, un centro studi significa fare ricerca, fare attività scientifica e far crescere un territorio. Per questo, dopo dieci anni, siamo convinti che dobbiamo ancora investirci, far crescere ancora di più il centro studi per farlo diventare un punto di riferimento sempre più importante, non soltanto nazionale, ma internazionale. Arrivare al punto dove chi vuole studiare, e noi sappiamo che Vitruvio è un punto di riferimento mondiale, chi studia architettura studia e approfondisce l'idea architettura, quindi chi vuole studiare Vitruvio deve avere come punto di riferimento il nostro centro studi di Fano. Per questo riteniamo importante anche questo momento di divulgazione, perché molte volte chi vive in una città non è sempre consapevole del tesoro e del patrimonio che ha anche in questi termini. Sappiamo che Vitruvio è stato un cittadino di Fano, adesso a prescindere da dove si è nato, ma è una presenza importante, Vitruvio è il protagonista del Dearchitettura, quindi tutti gli studiosi al mondo, gli architetti, tutti conoscono il Dearchitettura, che mi sento di dire anche da sindaco che sia un libro ancora di grandissima attualità, se guardiamo il dibattito anche su quello che riguarda l'ambiente, la tutela dell'ambiente, lì abbiamo una guida straordinariamente originale e ancora fortemente attuale. Quindi oltre questi dieci anni, a partire dal prossimo anno, ci saranno magari dei progetti e delle iniziative importanti in cui il centro verrà coinvolto insieme naturalmente a tutti i cittadini che vorranno partecipare e unirsi a questo sapere? Beh, noi ci teniamo molto, devo dire adesso abbiamo anche, c'è un nuovo direttore scientifico, si è rinnovato anche la sua organizzazione, come amministrazione come dicevo ci stiamo investendo perché riteniamo che abbia tutte le qualità e le caratteristiche per diventare un punto di riferimento non solo nazionale ma mondiale, cioè vorremmo arrivare a un punto che chi vuole studiare Vitruvio deve relazionarsi col centro studi, poi ovviamente c'è un comitato scientifico di grande spessore che può dare un contributo straordinario, quindi ci sono tutti gli elementi per ottenere grandi risultati, poi voglio ricordare la presenza dell'Università di Urbino, dell'Università della Politecnica di Ancona, la sovrintendenza, insomma è una squadra ricca, di grande potenzialità ma l'obiettivo è veramente quello di proseguire nell'attività scientifica che ripeto, arricchisce un territorio e fa la differenza. Per contarci i dieci anni dell'attività del centro abbiamo invitato il presidente Dino Zacchilli, buonasera, ben trovato. Buonasera, ben trovato. Allora, Fano per Antonomasia è la città della fortuna ma Fano ha anche deciso di chiamarsi e di essere chiamata appunto la città di Vitruvio perché proprio Fano dedica questo centro studi all'architetto di tutti i tempi. Perché c'è un legame profondo tra la città di Fano e Vitruvio? Proprio perché Vitruvio stesso racconta questo legame, questo vincolo nel suo straordinario libro Il De Architettura. Qui dice di aver costruito una famosa basilica, edificio straordinario, unico, su cui gli storici e gli archeologi ancora oggi si interrogano e si interrogaranno ancora forse per decenni, però è chiaro che questo legame c'è e a noi interessa raccontare questo rapporto perché Vitruvio, se ci guardiamo un po' intorno rispetto, diciamo così, ai numi tutelari delle varie città, Pesaro a Rossini, Urbino a Raffaello, noi abbiamo Vitruvio, però ancora non abbiamo la percezione forte di questo legame, l'importanza di questo legame, perché non l'abbiamo ancora indagato e raccontato completamente. Perché dico questo? Perché Vitruvio è stato qui, ha costruito la basilica, probabilmente ha, come dire, governato alcune realizzazioni della Fano Augustea nel momento in cui Augusto l'ha elevato a Colonia Iulia dotandola di monumenti, quindi le mura, il teatro, che sembrano rispondere ai dettami vitruviani, non li avrà costruiti Vitruvio, ma rispondono ai suoi insegnamenti, è stato, ce lo dice una ricerca recente che abbiamo commissionato, è stato cittadino fanese e se questo è, Vitruvio è il fanese più importante della storia, perché poi è stato il maestro nel tempo dei grandi personaggi del Rinascimento, Leonardo, Raffaello, Leon Battista Alberti, Susu, poi Palladio e via discorrendo, portando, diciamo così, l'insegnamento che il suo libro trasferiva dei saperi antichi, perché è l'unico libro di architettura che è pervenuto fino a noi e che ha avuto un influsso enorme sulla civiltà occidentale. Se guardiamo in giro per tutto il mondo, dalla Germania a Parigi, da Berlino a Parigi a Washington, gli edifici principali pubblici sono in stile neoclassico e se questa cultura si è diffusa per il mondo lo dobbiamo anche a lui. Allora, siccome noi abbiamo questo legame, per Fano è importantissimo, dobbiamo però cercare di farlo scoprire, di far innamorare i fanesi, di renderli consapevoli e orgogliosi di questa radice e far capire che questo personaggio per noi è importante. Noi ci abbiamo provato in questi dieci anni facendo alcune cose e devo dire che sicuramente oggi, più di dieci anni fa, la figura, l'opera di Vitruvio sono più noti, più presenti anche nell'immaginario fanese. Noi ambiremmo a proseguire su questo percorso, perché è un progetto di lunga durata, in modo che veramente i fanesi se ne innamorino e diventino orgogliosi, lo sappiano raccontare al mondo e diventi Vitruvio un elemento dell'identità, ma anche un volano di opportunità per la città di Fano. Quindi dieci anni fa, a settembre, nasce il Centro Studi con l'obiettivo di divulgare un po' la cultura classica, ma anche come ha detto di far respirare e far vivere ai fanesi la figura di Vitruvio. Com'è organizzato il Centro Studi? Dunque, il Centro Studi appunto è nato dieci anni fa per iniziativa, già prima se ne parlava, perché io ricordo una conferenza del 2003, quando allora ero assessore lavori pubblici e mi occupai del restauro dei monumenti della città. Quando presentammo il restauro delle mura gustee, chiamammo Pierre Gros, che è uno dei massimi studiosi di Vitruvio. E le cose, insomma, già allora si parlò di una possibile iniziativa su Vitruvio. Poi, nel frattempo, c'erano alcuni fanesi che studiavano e alimentavano questa passione. Ricordo l'architetto Paolo Taus, il professor Paolo Taus, poi Paolo Clini, che è stato, diciamo, un continuatore ed è stato anche l'ispiratore, poi, della fondazione del Centro Studi. Idea che poi si è concretizzata nel 2010 con la provincia di Pesururbino, il comune, la Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Urbino e allora anche, come soci fondatori, l'Archeoclub e i Confesercenti. Oggi i nostri soci sono, appunto, il comune, la fondazione Cassa di Risparmio, che ho dimenticato prima ma era già tra i soci fondatori, le due università di Ancone e Urbino e, cosa più interessante, anche il Ministero dei Beni Culturali, sono i nostri soci. Stiamo riorganizzandoci, è stato un anno terribile per la pandemia, non abbiamo potuto operare, stiamo riorganizzandoci. Abbiamo avuto anche, come dire, un avvicendamento perché il professor Paolo Clini ha deciso per ragioni personali e professionali di lasciare l'incarico che aveva di coordinatore scientifico e anzi approfitto per dire da una parte per ringraziarlo del grande contributo che ha dato all'attività del Centro Studi, dall'altra per dire che spero che possa poi anche tornare a collaborare con noi. Detto questo, noi ci stiamo riorganizzando, stiamo formando proprio in questi giorni un nuovo comitato scientifico, stiamo pensando, abbiamo nominato con il professor Oscar May il nuovo coordinatore scientifico e stiamo programmando l'attività del 2021 e degli anni a venire, perché vorremmo proprio che continuasse con la collaborazione e il sostegno della città e dell'amministrazione, a cominciare dal sindaco che ha dichiarato di voler sostenere fortemente questa istituzione, si possa fare un passo avanti e portare sempre più l'attenzione sulla figura, l'opera di Vitruvio e il suo influsso nel tempo da una parte, quindi attività scientifica, perché un istituto culturale senza attività scientifica non avrebbe senso di essere, ma dall'altra parte di fare tutta una serie di attività riguardo alla città di Fano che rendono più pop questa figura, più presente, più quotidiana, fare di Vitruvio uno di noi. Beh, dieci anni comunque intensi di attività tra mostre, congressi, convegni, progetti e anche attività didattiche, a partire anche da workshop o addirittura tesi di laurea proprio sulla figura di Vitruvio, quindi una maniera anche per appassionare i più giovani alla figura di Vitruvio. Sì, certo, noi ci siamo posti questo problema, ma non solo, abbiamo avuto dei dottorati di ricerca gestiti dalle due università che hanno portato a tesi di laurea diverse, ma alcuna, una ad esempio sul teatro romano molto molto interessante, che potrà essere utile anche per le attività che si vanno a fare di recupero di quel patrimonio. Però tante cose abbiamo fatto, seminari, convegni, conferenze, mostre, ricordo la mostra sull'uomo vitruviano del 2014-2015, l'ultima collaborazione col Comune per la mostra Leonardo e Vitruvio nell'anno centenario di Leonardo. Ma per quello che riguarda i più giovani, ricordo ad esempio che noi abbiamo un progetto nelle scuole che va avanti da cinque anni, Vitruvius Dolcet, perché vogliamo proprio così inseminare, diciamo così, questa idea, questo rapporto, questo legame con la città e far, come dire, capire la figura di Vitruvio anche ai giovanissimi, per cui abbiamo delle nostre dottorate di ricerca che vanno nelle scuole a fare laboratori vitruviani, in questo senso. Ma poi abbiamo fatto progetti che riguardano la città, la carta archeologica di Fano, archeofano, che dovremmo completare. Abbiamo fatto tante collaborazioni, anche, diciamo così, diverse da una parte, con altre realtà anche del territorio. Abbiamo collaborato con Vinci per una mostra che si è tenuta a Vinci. Abbiamo fatto iniziative a Rimini, ultimamente a Roma, con, proprio quest'anno, una piccola collaborazione con le scuderie del Quirinale per la grande mostra su Raffaello alle scuderie del Quirinale. E poi, ad esempio, ricordo, collaborazioni anche con Henry Secchiaroli per il film su Vitruvio, collaborazioni con il programma Freedom di Roberto Giacobbo. Quindi sono state tutte iniziative che andavano nella direzione di far conoscere di più il legame Fano-Vitruvio e di renderlo, come dicevo prima, un personaggio interessante anche per i fanesi, anche se è lontano. Non è Rossini, di cui si può ascoltare la musica, non è Raffaello, di cui si possono vedere gli straordinari dipinti, ma è un personaggio incredibile che ha avuto un'influenza e un, diciamo così, un influsso straordinario nel corso dei secoli. Vorrei fare una battuta, anzi farle fare una battuta, riguardo anche alla modernità di Vitruvio che lei prima ha menzionato, perché i valori di questa modernità sono stati recuperati per costruire il dossier dedicato alla candidatura di Fano come prossima capitale della cultura. Sì, beh, la modernità di Vitruvio è straordinaria, era, diciamo, una radice che in qualche modo cercava di ispirare il progetto di candidatura che guardava lontano al 2030, ma è così perché il De Architettura ha dei principi e dei valori straordinari che oggi sono attualissimi. Che cos'è il De Architettura? Io non sono uno specialista. Questo volevo chiederle, ma come appassionato, come cittadino? Io non sono uno specialista e non voglio, come dire, che qualcuno magari mi rimproveri, ma per me, io ho letto e leggo quel libro straordinario che contiene tanti insegnamenti, anche tecnici, non solo per l'architettura, per la musica, per l'idraulica, per l'acustica, insomma, tante cose, è Vitruvio. Però io l'ho letto e lo leggo come una grande lettera che Vitruvio scrive indirizzata al potere. Lui, di origini umili, tutto sommato, che aveva collaborato con Cesare prima e poi con Vitruvio, si rivolge all'imperatore Augusto, gli manda questa straordinaria lettera e gli dice bene, adesso che hai un grande impero, ti insegno a come governare le cose per il benessere dei cittadini, come costruire le città, dove costruirle, in quali luoghi scegliere, come cercare di organizzare la città, perché prima le città, devi pensare prima agli spazi pubblici, agli edifici pubblici e poi a quelli privati, devi fare in modo che gli edifici siano costruiti per il benessere e la salute dei cittadini, che siano belli, perché la bellezza genera, diciamo così, migliora la gente e la bellezza per Vitruvio era nel rapporto perfetto tra le proporzioni, lui parlava per i templi, come per l'uomo, di cui l'uomo vitruviano, di cui ben conosciamo, perché la bellezza rende migliori e sempre nel rispetto dell'equilibrio tra l'uomo e la natura. Se noi avessimo osservato da 80 anni a questa parte, nel nostro paese, non solo, alcuni principi vitruviani, forse non avremmo certe brutture che sono in giro per il territorio italiano e che imbruttiscono le città, a cominciare da una delle città più belle d'Italia, perché se pensiamo a Firenze, centro storico straordinario, poi si esce nel resto della città e magari quello che è costruito non è così bello come il centro storico, questo vale per tutti, oppure di città costruite in luoghi sbagliati, poi arrivano le inondazioni. Ecco, se avessimo rispettato alcuni principi vitruviani, io direi che avremmo fatto un paese più bel paese di quello che non sia. E poi c'è un altro principio straordinario che io voglio ricordare, che Vitruvio scriveva al suo imperatore Ottaviano Augusto, dice ricordati che se vuoi essere felice, sappi che se vuoi essere felice in qualche modo, il sapere è più importante della ricchezza. E allora, aver anche incardinato il dossier della candidatura sulla questione della cultura e del sapere, prendendo la cultura e il sapere come motore dello sviluppo, anche questo è un gancio straordinario tra l'antico e il futuro di Fano e della nostra realtà. Salutiamo i nostri ospiti allora, grazie al sindaco Massimo Seri. Grazie a voi e grazie per questa opportunità. Grazie Dino Zaccilli. Grazie a voi. E naturalmente un grazie a Riccardo Sora in regia. Io vi aspetto per il prossimo approfondimento dedicato a Vitruvio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.